Ciao a tutti amici, io sono ancora con il nostro Loris DJ di Italian Country Family e continuiamo a parlare di country. Cos'è questo onky tonk che tu mi... E' un altro genere musicale, è difficile da descrivere però il nome deriva dalla musica da bar, tanto per onky tonk sono i bar, quindi vuol dire che erano questi cantanti che si esibivano nei locali dove vedi anche nei film, li chiamano onky tonk dove c'è il bancone dove si tirano la birra, ecco questi sono gli onky tonk. E ora la musica nata in questi locali ha dato l'idea di questo filone musicale di quegli anni, ecco. Ok, altre cose di Wylon che ti vengono in mente da potermi raccontare? Beh, Wylon ha vinto tantissimi premi, è morto nel 2002 di diabete perché è un po' come tutti gli artisti avevano anche il viziaccio della droga, in quegli anni purtroppo quasi tutti ci sono caduti dentro. Però la cosa che mi ha impressionato di più di lui è che dopo la morte sono uscite tantissime raccolte, tantissime ristampe perché è considerato appunto un idolo dagli artisti successivi. Quindi non è stato dimenticato? No, no, assolutamente, anche adesso ci sono artisti che hanno cercato di mandare avanti questo filone. Uno di questi è Randy Rogers che è un texano, abbiamo Jackson Taylor Band che è un altro pazzoide che è venuto a suonare qua da noi, che però è bravissimo, però c'è anche lui il vizio di bere un po', gli artisti sono tutti un po' strani. Però ci sono delle nuove leve insomma che lo seguono in modo particolare. E quindi terranno vivo il nome di Wylon? Whitey Morgan, adesso non mi vengono in mente tutti però il sound originale è sempre quello originale, quindi è lui che ha creato questo filone particolare e chi crea è il più... Rimane nella storia? Esatto, esatto. Perfetto, ti brillano gli occhi? Allora io ringrazio DJ Loris per queste altre pillole di saggezza sul country music e su questo meraviglioso Wylon Jennings e noi ci vediamo per la prossima puntata, ok? Grazie e buon proseguimento, ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti